Indicatori, tutti positivi per le industrie ravennati nel secondo semestre del 2018 e previsioni tendenzialmente positive per il primo trimestre del 2019 durante il quale avanza un'aspettativa di stazionarietà. La delegazione di Ravenna di Confindustria a Romagna ha presentato l'indagine congiunturale sulla situazione economica delle imprese ravennati aderenti all'associazione di categoria, realizzata dal centro studio e dal servizio economico. Indagine incentrata sul comparto manifatturiero e dei servizi e dal quale è stato escluse il settore delle costruzioni sempre più in crisi. Allerta è comunque la parola d'ordine per il 2019 in Confindustria per non rimanere sorpresi da imprevisti che potrebbero pregiudicare il mercato. Un avvertimento che si lega alla manifestazione del 16 marzo contro la sospensione alle nuove concessioni per le trivelazioni. Il 2018 ha visto una crescita del fatturato di circa il 7%, ha visto una crescita dell'occupazione di circa il 4% e quindi sono dati che hanno un'intonazione positiva. Bisogna difendere questi dati l'anno 2019 e le prime valutazioni che fanno le imprese sono improntate a una stabilità nel 2019, una fetta minore è rivolta a ulteriori possibilità di crescita e ce n'è un'altra fetta che ha qualche timore di flessioni. Bisogna essere sicuramente prudenti perché ci sono temi di carattere economico generale che potrebbero influenzare dei trend. Nella fase attuale il mercato continua a essere abbastanza positivo. Potrebbe darsi che ci fossero magari nel corso dell'anno qualche tipologia di assestamento che porta a avere un attimino anche magari un leggero riposizionamento, ma non siamo di fronte sicuramente a un rischio, almeno per quanto si può vedere oggi, di una caduta verticale. Quindi come sarà il 2019? Bisogna continuare a pedalare molto perché per far fronte a eventuali incertezze che si possono produrre, le imprese devono lavorare per trovare nuove opportunità, nuovi spazi. Adesso si nota un'intonazione positiva anche sugli investimenti che al di là di quanto è stato fatto negli ultimi due anni, a seguito anche delle leggi di orientamento, soprattutto in Italia, verso industria 4.0, tecnologie digitali e così via. Il 2019 sarà un altro anno che continuerà a procedere in questo progetto importante di utilizzo di nuove tecnologie in maniera integrata. Quindi gli investimenti continueranno a essere rivolti in misura significativa all'ICT, alla ricerca e sviluppo prodotti, mercati e allo sviluppo organizzativo. Altro fattore importante è che voglio connettere allo sviluppo delle risorse umane e delle competenze presenti nelle risorse umane. Sabato intanto in piazza contro la sospensione per le nuove concessioni, per le trivelazioni. Il recente decreto di blocco delle estrazioni di prodotti petroliferi e di esplorazioni per nuove perforazioni è determinato nel settore aereo e in gas che a Ravenna occupa oltre 10.000 persone e che in Italia, nelle altre regioni, ne aggiunge altre 20-30.000. Tutto ciò, da un giorno all'altro, che si decide di spegnere un settore, è un qualche cosa che inquieta altamente perché è una bomba atomica sotto le decisioni di investimento delle imprese di quel settore. E se questa dovesse essere la regola che d'ora in avanti applichiamo da ogni settore, il nostro futuro italiano non sarebbe certo dei più rosei per avere opportunità di sviluppo o di nuova occupazione. Passano i governi di destra, di sinistra, giallo-verde, ma in campo ci sono sempre gli stessi temi. Mancano le infrastrutture, la transazione energetica è necessaria ma non è ancora partita. Sembra che non si vada mai avanti. No, noi siamo evidentemente sempre pazienti e ci rendiamo ben conto che parlare di infrastrutture non significa fare un piano a 12 mesi senza avere idea di ciò che succede dopo. E sappiamo quanto siano complesse, messi in campo, di progetti infrastrutturali. Quello che tendiamo a sottolineare è quanto sia necessario avere un piano poliennale che ci sembra non esista e ci preoccupo ulteriormente il fatto che non ci sia da parte di di chi oggi sta al governo, una decisione ancora presa sui cantieri che si potrebbero avviare, che sono già finanziati da anni e che potrebbero dare lavoro, come tutti sapete, a migliaia di persone. Si tratta solamente di risolvere le problematiche amministrative e burocratiche per consentire l'avvio di questi cantieri. Partendo da questo che si può fare, ecco, quello che a noi preme è non distruggere una parte del terreno che abbiamo sotto i piedi con delle azioni un momentino avventate, perché 18 mesi di interruzione vorrà dire che larga parte morirà o si ridimensionerà fortemente. Questo non ci sembra un qualche cosa concepibile in un contesto che dovrebbe invece tenere in considerazione di come generare nuove opportunità occupazionali per il futuro.